La mia montagna è cominciata nei boschi con mio padre, a tagliare legna. La montagna a me ha dato tanto. Ho superato momenti difficili nella mia vita, anche a livello personale, ma li ho superati andando in montagna, li ho superati stando con la gente, camminando, li ho superati sudando e facendo fatica. Penso che non riuscirò mai a restituire quello che lei ha dato a me.